Buongiorno mie papere, da Lapina e la Peppina. Siamo in una stanza d'albergo, come si può vedere. Siamo a Phu Quoc, un'isola del Vietnam che si affazza sul golfo della Thailandia. In realtà siamo qua già da un paio di giorni, però troppo stanca per fare di là, che dovevo un attimino ambientarmi. Ma oggi che andiamo a esplorare l'isola, vi portiamo con noi. Buongiorno, questa è la camera d'albergo che è gigantesca. Scusate il disordine, ma ci siamo praticamente appena svegliati. Questo qui è il lettone super gigante con infiniti cuscini. Poi la stanza in realtà continua ed è veramente enorme, ma proprio gigantesca. Di qua c'è la zona TV che non abbiamo mai acceso, con un'altra lampadina. Poi ogni mattina ci danno questi fruttini qua, che in realtà non mangiamo spesso, però vabbè, sono sempre carini. E poi la cosa, la chicca, che di qua si va in terrazzino. Il terrazzino è anche munito di queste fantastiche sedie. E poi, vabbè, il Jami ha visto bene di stendere i ponni. Anche se il mare forza otto, è figo lo stesso. L'isola è molto, molto, molto verde. Molto, foresta tropicale, molto. E questo qui è il bagno gigantesco, dove abbiamo due fantastici lavandini. Vabbè, il WC, ma la cosa figa di questo bagno è senza dubbio la doccia. Guardate quanto è grossa. Abbiamo lanleggiato un motorino per esplorare l'isola, quindi let's go! Yeah! Yeah! I promise I'll show up when your life's too rough If you wanna have me there I know I'm like a walk in space No matter how you talk with me You never know what's up I don't even think I'm in my league here Siamo nella baia di Sao, a sud dell'isola Che prima in camera non so bene cosa ho detto Comunque adesso siamo nel profondo sud dell'isola Che a differenza del nord dove siamo noi in hotel C'è un sole che spacca le pietre E il mare è veramente, veramente caldo Come to your heart, me don't get lost inside I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling to you I'm so gone, I'm so gone, I'm so gone, I'm so gone, I'm so gone in you Si è fatta la certa e quindi la finaccia ha fame E in un posto di mere Cosa puoi mangiare se non il pesce Ho ordinato delle capesante E sono abituata alle mie capesante Ovvero grosse così Invece qui mi hanno portato queste microscopiche capesante Che vanno in tinte In teoria della salsa chili Però è very hot Iguale sono buone Stimola solo l'appetito e basta Non mi soddisfa Mi toccherà fregare un po' di cibo del jammy Il jammy invece mi ha preso il riso Un attimino super big e poi lì ci sono le verdierone per me Ma te la fai a mangiare tutto o mi regali qualcosa? Te lo mangi tutto questo Eh? Te lo mangerai più tu di me Eh già 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 Che poi voglio dire Mangiare guardando questo spettacolo Anche se le capesante non sono giganti Va bene uguale Guardate che figata Si può ma avere questa vista anche a Milano Si può, si può, si può Poco distante dalla baia di Sau Si trova la prigione di Pukwok L'ingresso è libero E abbiamo letto sulla guida Che è molto suggestivo Perché insomma ti porta un po' a po' i piedi Nella storia che si fa sempre bene Anche se si è in vacanza Questa prigione era stata costruita Ai tempi del Vietkong Quando il Vietkong era diviso Tra il nord e il sud Adesso entriamo e vediamo Com'è insomma Alla prossima Alla prossima E' un'altra prossima non mi aspettate chissà che cosa dalla prigione, non è gigantesca, non troverete chissà che cosa però comunque ci sono i cappannoni alla fine sempre per sempre nella prigione dove questi poveri cristiani alla fine venivano stipati senza cibo e acqua e torturati per giorni e comunque è sempre importante venire in questi luoghi dato che poi alla fine il Vietnam ci ha ospitato per quasi un mese ci ha cibato, ci ha stamato, ci ha fatto vedere un sacco di cose belle è anche interessante vedere la loro storia anche se appunto non è una storia piacevole e quindi secondo me se siete, cioè se siete venite a Pukwok comunque dato che è free dato che comunque si gira e siano 5-10 minuti secondo me vale la pena farlo e poi potete ritornare a fare ciao ciao sono abbracciata al mio fantastico zaino che ho usato per tutta la vacanza perché c'è un vento della madonna e ho appena perso il perusciotto del microfono e quindi mi sto cercando di fare l'apparavento con lo zaino, speriamo bene abbiamo lasciato la costa a sud, siamo ritornati al nord e infatti c'è brutto tempo e un vento della madonna praticamente se stavamo al sud era meglio siamo nella città principale dell'isola di Pukwok che si chiama Pong Dong Dong non mi ricordo bene il nome ma è qualcosa di simile perché è impronunciabile come nome e siamo nei pressi del porto vecchio siamo giunti al mercato della città di... Dong 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 non riusciamo a pronunciarlo e come tutti i mercati e tutti i mercati vietnamiti è un gran casino di gente motorini e roba da mangiare siamo pronti per voi ad esplorarlo certo a mangiare la gallina cruda si, no, vendono i polli vivi perché così la carne è più fresca questo è l'ingresso del mercato e già dall'inizio si può capire il delirio che c'è tutti che si muovono con questi cavoli di motorini a rischio di incidenti ogni due secondi e tutto intorno bancarello di cibo e di robe e qua siamo nel reparto pesci 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 signori, signori solo per voi micro squali direttamente dall'oceano di Pukwok guardateli qua io non l'avevo mai visto il jammi che è pugliese subito l'ha riconosciuti ma come si mangia lo squalo? come si fa? ma come vi avevo detto vendono i polli vivi in modo tale che poi la carne possa risultare molto più tenera e fresca questi sono proprio bei galletti fammi un chicchi ricchi un chicchi ricchi e signori, signori crac crac ci sono anche le rane guardala qua la rana mentre ho riproso la rana nell'altra vasca è saltato un pesce chi riesce a capire che pesce è questo vince 100 punti sembra veramente un mostro marino con i baffi ma che cavolo di pesce è? ma un amore questi due cani ma sono bellissimi fantastici sorridete salutate la pina ciao ciao questi qua sono i lictis questo è un'altra il passion fruit e poi abbiamo là in fondo il mio amico avocado che te magno mia passione il dragon fruit yumi poi questi jammy cosa sono questi? cosa sono questi? non lo so vabbè altra frutta bananine e le banane più tipo nostre però queste qua gialle sono decisamente molto più yumi poi uno dice che le arabe si coprono io direi che sono alquanto coperta perché c'è il vento sta per venire a piovere c'è un sacco di smog il jammino peraltro che non vuole restituire la motocicletta il motorino prima del tempo sta vagando per la jungle che c'è che stai facendo? il macaco sul motorino vabbè comunque siamo in the jungle la giornata è stata piuttosto movimentata intensa perché da nord a sud ci si impiega un'oretta di motorino e il motorino microscopico con il vento le strade che non sono a posto e tante altre belle cosine ti stanca un pochito però eccoci qua di nuovo in stanzina se la nostra gitarla fuoco ti è piaciuta fammelo sapere con un mi piacione se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale che la prima è con bambi e dalla pina il jammin saluta jammin e dalla peppina al prossimo episodio vietnamita ciao